All'interno dello sportello linguistico franco-provenzale, occitano e francese mi occupo della coordinazione della comunicazione, della promozione e della valorizzazione di tutte le attività che sono svolte da tutti e tre gli sportelli linguistici. Abbiamo una parte di comunicazione offline, quindi manifesti, locandine, promozione territoriale e una parte online, quindi tutto quello che riguarda l'interazione con gli utenti, la gestione di social network e il coinvolgimento con il materiale sul sito internet. Fa parte della mia attività di comunicazione anche una parte di attività artistica e di creazione di spettacoli, di laboratori artistici, in particolar modo musicali, quindi con il gruppo di lavoro e il mio gruppo musicale, Blu Lasar, abbiamo all'attivo quattro spettacoli che si occupano della promozione linguistica. I temi trattati sono diversi, in alcuni casi ci occupiamo di musica tradizionale, di argomenti tradizionali, in altri casi di nuova composizione, in cui cerchiamo di dare vita e vitalità alle lingue e di usarle esattamente come facciamo nel nostro quotidiano, quindi trattando i temi quotidiani internazionali a volte.